ciao ci serve un abito da sposa certo a si provi questo wow fantastico ci sono anche i vestiti per le damigelle? barbie svegliati 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 bene barbie parto per il mio viaggio di lavoro ciao tesoro chiamami ogni giorno io pulirò qui e cucinerò qualcosa ken sarà contento ciao 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 questo tappeto è sporco finito lo stufato di patate è il piatto preferito di ken che altro serve? lo so olio d'oliva farro perlato come controllo intorno fatto ho dimenticato di chiedere a ken quando torna lo chiamo non risponde svegliati dovrei chiamare barbie dov'è il mio telefono? chiamerò cara ciao puoi venire qui? ciao puoi venire qui? ciao barbie non risponde nemmeno no no andiamo in discoteca metterò il mio vestito preferito devo trovare delle scarpe prenderò prenderò le più colorate stai molto bene grazie aspetta chiamo ken ancora non risponde ok allora non mi porto via il telefono volevo farlo contento andiamo andiamo mi scusi può prestarmi il telefono per favore ecco a lei barbie dov'è barbie oh quanto abbiamo ballato sono così stanca barbie sono a casa oh ecco il mio telefono dieci chiamate perse da barbie oh che è successo barbie deve aver fatto una grande festa svegliati barbie ken sei tornato perché non mi hai chiamata ho lasciato a casa il telefono ti ho portato un regalo non avercela con me grazie andiamo a mangiare qualcosa muoio di fame oh barbie ciao sei pronta esatto andiamo in campeggio oggi è ora di preparare le cose prima dobbiamo scegliere i vestiti questi sono i migliori mmm cosa posso mettere? magari un bel vestito? barbie non dimenticare che stiamo andando in campeggio dovresti indossare vestiti per stare all'aperto capito allora shorts e una t-shirt cambiamoci adesso a blommettersi barbie penso che non siano i vestiti adatti per il campeggio ma sono comoda Prepariamo uno zaino Assicurati che ci sia lo spray per gli insetti e un kit di primo soccorso E cibo e una coperta Porterò il profumo gli occhiali da sole Kim, sei pronta? Sì, Barbie, andiamo Oh, mi sono graffiata le gambe e mi hanno punto le zanzare Facciamo una pausa Mi spruzzerò il profumo e andrà meglio Barbie, no! Sarà peggio! Usa lo spray per gli insetti Ok E metti questi cerotti sui tuoi graffi Eccoti della pizza Buona Andiamo? Certo! Oh, zanzare! Sono fastidiose Oh! Cosa sono questi rumori? Barbie, è un nido di vespe Corri! Aaaaaah! Oh, ce l'abbiamo fatta per un pelo Beh, la prossima volta faremo più attenzione La prossima volta Non andrò mai più in campeggio E tu cosa porti quando vai in campeggio? Scrivilo nei commenti qui sotto Ciao!